Questa è una fiera che compie oggi 30 anni sul biologico in favore della sostenibilità in una regione che eccelle per le sue produzioni agroalimentari ed è un segnale bellissimo che si riesca a raggiungere questo traguardo dei 30 anni con tante innovazioni e dal punto di vista della sostenibilità e della qualità delle produzioni. Il governo è assolutamente impegnato su questo argomento, il tema è all'attenzione, la prossima settimana ci sarà una riunione al ministero organizzato dall'altro sottosegretario Manzato che è una delega specifica al biologico fondamentalmente per valorizzare la produzione biologica e tutelare i consumatori e mantenere la reputazione alta del biologico. Sappiamo che il consumatore è disposto a pagare un prezzo più alto per il biologico e allora noi dobbiamo essere ben consci di dare un prodotto effettivamente biologico.